ed eccoci ben trovati spettatori di le fonti tv per questo nostro instant focus a un nuovo appuntamento che dedichiamo al mondo del lavoro e delle risorse umane che come abbiamo detto in diverse occasioni è in costante evoluzione in costante cambiamento un cambiamento che ha subito un'accelerazione importante proprio dalla pandemia in avanti e non si è ancora arrestato noi facciamo il punto della situazione attraverso una serie di interviste di tavole rotonde che potete trovare periodicamente sui nostri canali online per arrivare poi al main event il nostro main event ovvero l'HR forum che si svolge ogni anno in borsa a palazzo mezzanotte intorno alla fine di maggio riuniamo proprio l'occasione per riunire i professionisti delle risorse umane per vedere insomma nel corso di un intero anno solare che cosa effettivamente è cambiato quali sono le novità e le sfide ma abbiamo detto ecco facciamo anche un punto periodico proprio attraverso questi interventi televisivi con i professionisti delle risorse umane e io sono davvero contenta di introdurre l'ospite che ci è venuta a trovare oggi nei nostri studi ovvero francesca cottini senior manager HR di Michael Page benvenute grazie naturalmente per essere con noi grazie a voi per l'invito Valentina per voi è un momento particolare mi dicevi che ecco che siete reduci da una ricerca importante talent trends 2023 che avete elaborato e poi commentato nei vostri uffici attraverso un evento quindi insomma anche voi fate il punto avete dei dati delle analisi aggiornate sulla sulla situazione io partirei proprio da qua cioè dal fatto che il settore HR si è estremamente evoluto nell'ultimo periodo è passato da una semplice dimensione amministrativa e dai compiti invece che sono molto più rilevanti e quindi ti chiedo ecco quali sono anche le nuove competenze che gli HR devono sviluppare per poter dare il loro contributo. Assolutamente come diceva Valentina effettivamente abbiamo osservato un grosso cambiamento negli ultimi anni prima di tutto della funzione risorse umane nelle aziende che fino a qualche anno fa era legata a competenze molto arda della parte più amministrativa le paghe l'amministrazione del personale la contratualistica del lavoro che sono sicuramente competenze necessarie per far funzionare un'azienda negli anni il ruolo però si è molto evoluto spostando l'attenzione allargando l'attenzione anche sulla parte proprio di talent attraction e poi sviluppo del capitale umano il capitale umano è il cuore dell'azienda è uno degli asset principali per cui chiaramente chi gestisce questa funzione ha il compito di supportare il business con una visione anche strategica al fine di aiutarne la sostenibilità lo sviluppo la profittabilità per cui le competenze che oggi sono necessarie nel ruolo di chi agisce lo sviluppo delle risorse umane in azienda è proprio quello intanto di avere una capacità di ascolto e di osservazione anche della realtà che cambia intorno a noi una grandissima capacità di analisi e di mappatura di quelle che sono le competenze da un lato e le esigenze del business ma anche delle persone al fine di riuscire a formulare delle proposte che siano di reciproca soddisfazione per i dipendenti e per le aziende a questo uniamo anche la capacità di essere agili e di essere flessibili proprio per poter mettere in campo delle soluzioni che siano talvolta anche creative ed audaci poi se ci sarà occasione di approfondire questo è un po quello che è emerso dal nostro talent trends insomma un pacchetto di competenze bello corposo perché abbiamo detto appunto non solo più hard skill ma anche soft skill io mi sono segnata alcune parole chiave ascolto comunicazione creatività quindi insomma un bagaglio completo diventa il vostro sì una proposta articolata e complessa che va un pochino oltre quelle che sono strettamente le competenze di un HR che sono davvero tante no dividiamo il mondo HR in hard e soft e dentro questi contenitori possono stare tantissime competenze anche a seconda di quello che è il momento storico che un'azienda sta vivendo e quindi gli obiettivi che ha diventa però imprescindibile riuscire a combinare quanto più possibile più di queste competenze proprio per rispondere alle esigenze di un mercato che cambia e cambia molto velocemente. Eh sì certo ecco e ci sono insomma tanti attori contemporaneamente sulla scena ovviamente il mercato da una parte le risorse umane che fanno un po da anello di congiunzione tra le aziende e i dipendenti quindi insomma uno scenario complesso e nella tua risposta di poco fa Francesca io ho anche sottolineato un'altra keywords che è necessario approfondire ovvero talent attraction cioè l'attrazione dei migliori talenti che sono a disposizione sicuramente questa è una delle sfide che i professionisti delle risorse umane devono affrontare in questo momento ti chiedo se è la principale e quali altre sfide voi affrontate quotidianamente? È assolutamente la principale la metterei la metto al pari anche della della retention oggi la difficoltà per i datori di lavoro e per chi lavora nelle risorse umane è senz'altro quella di fare una proposta competitiva al fine di attirare migliori talenti migliori talenti sono i professionisti di cui c'è scherzità sul mercato per cui chiaramente oggi sono una posizione di forte vantaggio con una grande consapevolezza del proprio valore e di conseguenza un fortissimo potere negoziale per cui il datore di lavoro deve essere in grado di fare una proposta quanto più allettante per attirare questi professionisti fatto questo l'obiettivo non è totalmente raggiunto perché talvolta si riesce a portare a casa il talento che si cercava ma lo si perde in poco tempo perché tutti i fattori che sono risultati essere importanti oggi per i professionisti nella valutazione di un'opportunità è importante che vengano costantemente monitorati adeguati anche durante tutta la durata del rapporto di lavoro. Mi verrebbe da dire un po' coccolati anche se possiamo utilizzare questo termine anche se è improprio impreciso ma comunque vanno ascoltate le loro esigenze i valori che mi sembrano cambiati rispetto a prima al periodo prepandemico cioè proprio la scala dei valori delle priorità che alcuni professionisti hanno soprattutto quelli che hanno maggiore mercato sono cambiate rispetto a prima mi confermi questa cosa? confermo assolutamente è cambiata nella coscienza collettiva la percezione che i professionisti hanno del rapporto di lavoro i risultati di talent trends che è andato proprio ad indagare quali sono le motivazioni le dinamiche che muovono le persone che si guardano intorno in cerca di un'alternativa professionale ci dicono che la loyalty aziendale ha perso potere il legame con l'azienda ha perso potere sicuramente dopo la pandemia c'è stata una forte accelerata in tal senso perché le persone hanno dovuto necessariamente ridare le priorità ai propri valori ma è un qualcosa che noi addetti all'edanting e al recruiting vedevamo già prima del 2020 il mercato era già candidate driven perché il mondo va sempre più verso un'attenzione alla persona e quindi il valore emotivo professionale cede il passo al valore emotivo personale quindi valori che prima i professionisti potevano trarre dal loro ruolo la passione il senso di orgoglio di appartenere a quel brand la condivisione dello scopo aziendale cedono il passo a affetti famiglia cura di sé sport quindi che cosa succede nel momento in cui le persone mettono in campo un valore emotivo inferiore rispetto al datore di lavoro la negoziazione diventa quasi sterile quasi transattiva che cosa offro in termini di mio tempo di mie competenze che cosa si riesce a parlare due linguaggi diversi esatto questo non vuol dire cedere su tutti i fronti ok perché prima tu hai detto coccolare le persone sicuramente sì il well being l'attenzione alla persona ma il datore di lavoro oggi è chiamato ad affrontare questa sfida proprio che si traduce nella capacità di formulare delle proposte audaci creative personalizzate in ascolto che siano però di reciproca soddisfazione quindi io mi assicuro il talento perché ho bisogno di quelle competenze a un key role a una key person e posso garantire alla persona di avere in risposta alle sue esigenze un certo tipo di trattamento che può andare dalla flessibilità allo stipendio al percorso professionale questi sono i tre elementi ecco deve essere una trattativa win win cioè ci deve guadagnare sia il dipendente da un lato naturalmente anche l'azienda e il benessere insomma dell'attività imprenditoriale abbiamo parlato appunto di talent attraction e retention quindi di questo problema di attrarre e trovare anche i talenti migliori ma bisogna anche affrontare un altro capitolo quello legato al mismatch delle cosiddette competenze cioè le competenze che sono effettivamente disponibili sul mercato e quelle ricercate dalle aziende perché non sempre c'è corrispondenza e voi siete proprio l'anello di congiunzione tra il mercato tra i lavoratori e le aziende ecco io ti chiedo come vivete con questo questo problema del mismatch? Allora il mismatch dà sicuramente una conseguenza importante che è quello dello shortage di candidati le professionalità richieste esistono ma sono poche quindi entra in campo chiaramente l'importanza di essere veramente più competitivi rispetto ad altri dopodiché è chiaro che succede da sempre succederà per sempre che quando il cliente ha la richiesta anche su tutti i fronti è un po' difficile da accontentare noi lo guidiamo e facciamo consulenza rispetto a quello che il mercato offre in questo momento e quindi quale può essere una soluzione di ingresso e poi un percorso di carriera che ti porta ad avere la risorsa magari non plug and play ma pronta in poco tempo facendo un piano di crescita un piano di successione però davvero la questione principale è riuscire ad avere un indice di talent attraction tale per cui quei pochi professionisti fatti e finiti si riesca a portarli a casa e a trattenerli. Certo chiarissimo ecco abbiamo fatto appunto il punto della situazione e in uno scenario abbiamo visto già bello complesso e articolato con tanti elementi e visto che noi non ci accontentiamo di questo ce ne mettiamo un altro di elemento ed è veramente un elemento che può cambiare completamente le regole del gioco e sto parlando dell'intelligenza artificiale intelligenza artificiale in realtà è destinata a modificare tutti i settori lavorativi e molto spesso viene abbinata a quegli ambiti che in realtà non riguardano le risorse umane e quindi io ti chiedo francesca se l'intelligenza artificiale avrà o sta già avendo un impatto anche sul vostro lavoro se può essere considerato un alleato o meno e ne avete parlato ai talent trends. Allora ne abbiamo parlato in questi termini l'intelligenza artificiale è necessaria per essere un'azienda data driven. Tanti bei progetti e tante iniziative e tanti adeguamenti che si possono fare facendo delle analisi complesse attente del mercato per essere sempre allineati al mondo che intorno ci cambia non possono essere fatti se non si hanno gli strumenti adeguati. Page group è un'azienda data driven, talent trends è stato possibile realizzarlo grazie a page insights che è uno strumento innovativo molto importante per cui lo studio è stato proprio un'indagine empirica e scientifica di quella che è la realtà e i dati che ne sono emersi e che abbiamo letto sono dati reali. Su un campione ampissimo sono state intervistate 70 mila persone nel mondo di cui quasi 6 mila solo in Italia. Per chi è addetto alle risorse umane in azienda è importante avere gli strumenti giusti per continuare a fare bene questo lavoro, fare le analisi di mercato, fare i benchmarking, fare i confronti se si è responsabile di più paesi. Quindi è assolutamente importante avere il supporto dell'intelligenza artificiale. Ma non basta. Ma non basta. Ma non basta perché in un momento difficile come quello che si sta vivendo soprattutto come abbiamo detto nella fase di talent attraction e retention noi facciamo per tramite del client talent attraction andare a sondare con i metodi canonici la motivazione dei candidati, costruire con i dati, costruire con loro un rapporto di lunga durata e di fiducia è fondamentale per andare a scavare proprio in quelle motivazioni e in quelle dinamiche di cui parlavamo prima. Quindi rispetto alla selezione l'intelligenza artificiale aiuta. Il nostro consiglio è che non si possa prescindere dai metodi canonici. Certo c'è sempre una componente umana che risulta imprescindibile. Importantissima. Chiarissimo. Bene io Francesca ti ringrazio davvero per questo bel approfondimento che ci hai regalato e ti invito naturalmente nuovamente non solo qui nei nostri studi ma poi a Palazzo Mezzanotte per le Char Forum per il grande appuntamento dove faremo il punto della situazione nell'anno solare. Quindi da qui fino a maggio dell'anno prossimo magari tante cose cambieranno ancora. Volentieri. Io ringrazio Francesca Cottini, senior manager HR di Michael Page per essere stata con noi. Grazie a voi.